Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua e sono particolarmente soddisfatta dei miei lavori di giardinaggio che ho svolto durante questa settimana, uno dei quali è stato il recupero di questa pianta di rose di cui però non vi svelerò né il colore e né il nome perché lo scopriremo assieme nei prossimi giorni, nei prossimi tempi. Vi dico solo che ho dato spazio a questa pianta spostandola dai rami di edera e permettendo di prendere luce e calore di queste bellissime giornate di primavera. Infatti vedo che mi sta ringraziando perché vedo le nuove gemme che stanno spuntando e sono curiosa di vedere assieme a voi prossimamente la fioritura. Non vi svelo altro però per il momento voglio ringraziare tutti coloro che hanno già prenotato il loro tavolo per Pasqua e che quindi ci fanno dire in questo momento grazie per il giorno di Pasqua abbiamo il tutto esaurito. Vi dico però anche che abbiamo ancora delle disponibilità per il lunedì di Pasquetta. Se qualcuno è interessato vi invito a prenotare il tavolo attraverso i contatti che troverete nelle pagine social dove siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Voglio chiudere augurando a tutti voi e alle vostre famiglie tanti tanti auguri di buona Pasqua. Ciao! Grazie!